musica quanto? oh si sono venne a ricogliere un cacca il tutto rotto non l'ho capito la cacpa è dove? non c'è per ora ascoltami si sono venne a prendere e a toccare la mongia perché è tutto scannato e non ci può andare nessuno a mongia perché mi sanno andando a lavorare ci vuoi essere la cacca lo rompiamo tutto per la vita questa settimana è tutto rotto congolziamoci la pastina va bene domani domani più di 200 dobbiamo farne lo sa per il discorso che è di più va bene erano 60 euro quindi già sono 60 euro e 90 90 e 69 sono 200 202 e 305 e la è vada io di pomeriggio tu dico subito quant'è tu dico subito eh per te sono 30 303 e 306 e 306 e 180 36 e 180 sono 216 questi sono bravo vero bravo vero bravo vero Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.